Posta secca, domanda risposta, allora parto con Stefani Pallomeni Vai, facciamo calcio Douglas Luiz e Turam, dammi un voto Douglas Luiz 8 e mezzo, Turam 7 e mezzo Massimo Brambati, dammi un voto Douglas Luiz 8, Turam 7 Osimène Quaraschella, si parla di un'offerta del Paris Saint Germain di 200 milioni Li cedereste di fronte a questa offerta entrambi, sì o no? Stefano Massimo Ieri Zagnolo Ken, chi farà meglio il prossimo anno? Stavolta parto da Massimo Zagnolo Stefano Ken Chiesa, ci sono, così sembra, Roma, Napoli, Bayer Quale potrebbe essere la migliore destinazione? Stefano Che me lo chiedi? Lo chiedo, dai, dilla Non dai, su Che domanda, dai Dimmela Roma Roma Massimo Per entrambi, cioè sia per la Juve che per il giocatore, il Bayer di Morati Riparto da Massimo, Zilze Vlaovic Chi scegliete? Vlaovic Anch'io Anche tu Stefano? Ho visto una capigliatura la cucurella ieri Altro confronto e altra scelta Sule Ildiz Chi scegliete? Massimo Brambati Scelgo Ildiz E cedo Sule Stefano Ippolomeni Contrario Quindi Tieni Sule Tengo Sule Ildiz E Ildiz Ma pure Ildiz Mi tengo Non si può L'ultima Ma si ha detto uno dei due Uno dei due No, però Un casino al gioco lui L'ultima L'ultima Come ti pare Spalletti L'ultima L'ultima Spalletti È da confermare Stefano Ippolomeni Ti ho messo in difficoltà Ah sì Mi hai messo in difficoltà Ci può Eh no, devi scegliere Dai Sì ma Dai Sì ma Mi No Che cosa Massimo Brambati Sì sì Bene Non te credo Eh Dai Vabbè Dai Finisce qua Con le mie